Si va verso un grande cambiamento nel mondo della scuola nel periodo Covid. Il calcolo delle quarantene è destinato entro breve a cambiare. In questi giorni il testo viene passato anche al vaglio delle regioni dopo che Governo e Istituto Superiore di Sanità hanno messo nero su bianco le novità. Così anche i bollettini sanitari avranno numeri abbattuti proprio nei dati delle quarantene. Per le scuole elementari, medie e superiori viene cancellata la quarantena se c'è un solo caso di positivo in classe e se al primo controllo tutti i tamponi dei compagni sono negativi. Scatterà solo se i casi arrivano a tre o più per ogni classe. Valgono sia i tamponi rapidi che i molecolari, gli stessi autorizzati per il Green Pass. Per farli ci saranno due momenti. Il tampone zero che verrà fatto all'inizio dal momento in cui si è informati del primo caso positivo e il tempo cinque, cioè da fare dopo cinque giorni. Regole diverse anche per chi non è vaccinato che invece andrà in quarantena anche se il primo test è negativo e al decimo giorno farà il tampone per poter rientrare. Stessa regola per gli altri operatori scolastici che hanno svolto attività insieme al caso positivo mentre chi è stato in presenza nella classe del positivo se ha il tampone negativo potrà rientrare subito. Regole diverse anche per quello che riguarda l'isolamento. L'isolamento durerà sette giorni per i vaccinati e dieci per i non vaccinati.